Per darti la possibilità di effettuare dei trattamenti in aree di varie dimensioni e garantirti copertura ed efficace, puoi combinare il tuo nebulizzatore con dei kit che ti permetteranno di ottenere delle elevate performance durante i trattamenti antizzanzare in giardino. Ma per conoscere l'applicazione migliore occorre conoscere il giusto dimensionamento in base al nebulizzatore, agli accessori che hai scelto e all'area che devi trattare. Scegli l'applicazione migliore per un dimensionamento ottimale per i trattamenti antizzanzare.